recensione telefono motorola moto e 13 andiamo a fare la recensione accensione ottenuto il pulsante destro di accensione spegnimento il telefono è un electric blu abbiamo android nella versione 13 go edition abbiamo 64 gb di memoria interna quindi di rom che possiamo metterci anche una micro sd infatti c'è il carrellino per metterci cuffie e scusatemi micro sd e sim card e diciamo che ha ben 2 gb di ram ma non è tanto però per quello che ci devo fare va più che bene eccolo qua prima accensione è molto rapido nell'accensione io ho tolto già il rumore di defo così nessuno può scassare le scatole la fotocamera è questa qua mi sembra una buona fotocamera abbiamo 13 megabyte di 13 megapixel di fotocamera a me non sembra malvagia quindi i colori sono abbastanza sgargianti non si vede bene però sono buoni a mio avviso va bene andrò e 13 nella go edition messaggi telefono youtube già installate abbiamo anche google google come dice un galleria la fotocamera e diverse applicazioni di defo già installate va bene l'orologio i messaggi registratore vocale telefono light facebook light già in sala di defo contatti galleria galleria credo credo che sia codiccio eccolo qua per andare a mettere un po più di colore basta abbassare la la finestra sotto sopra e vedere ok non è a 6 pollici e 7 anzi 6 pollici e mezzo di schermo non è grandissimo però va più che bene lcd ovviamente va piuttosto veloce quindi 2g insomma vanno più che bene per chi come me a poche pretese iscrivetevi al canale mi raccomando pesa poco e un buon telefono ciao a tutti